A mitigare l'amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia è arrivato oggi a Genova, gradita novità per i tifusi della Sampdoria, Graham Sunes, il 31enne centrocampista del Liverpool che nella prossima stagione vestirà la maglia blucerchiata. Numerosissimi appassionati della squadra di Via 20 Settembre sono accorsi all'aeroporto Cristoforo Colombo a porgere il benvenuto all'asso britannico che si è presentato insieme al Presidente Mantovani. C'era aria di festa e non sono mancati i voti augurali un po' da tutte le parti. Vi proponiamo le immagini girate a sestri dai nostri operatori insieme ad alcune interviste realizzate per noi dal collega Primo Salvi. Grazie a tutti. Nell'attesa per poter vedere Graham Sunes in arrivo abbiamo due colleghi della stampa inglese. Il primo è Thompson dell'Email e John Bean dell'Espress. Come pensate su John Bean? John Bean, come pensate sui trasferimenti di Sunez? Graham Sunes è probabilmente il miglior migliore migliore di midfield in Britannia a questo momento. E anche se ha 31 anni di age, sono sicuro che può dare a Sandorio due buoni anni di servizio. La domanda era cosa pensasse del trasferimento di Graham Sunes in Italia. La risposta di John Bean, il corrispondente dell'Espress in Manchester, ha detto che si tratta di un acquisto grandissimo da parte della Sandorio. ha 31 anni, Graham Sunes, ma è integro e ottimo e valido centrocampista. E' il giocatore più completo del momento in Inghilterra e potrebbe essere l'acquisto indovinato. Ok? Grazie. Grazie a tutti E' una grande sorpresa, non succede mai in Inghilterra E' una sorpresa veramente incredibile La domanda era che cosa avesse detto con il Presidente in questi brevi istanti Parleranno oggi pomeriggio di tutto Ok, grazie mille Ok, ok Grazie a tutti Primo canale